Hola io sono Marco Scorano e signori e signori bentornati in una nuova puntata di Metal Gear Solid 5 Tutto con la P Ho dovuto staccare quindi ho ricominciato da questo checkpoint Quindi andatevi a vedere il finale della puntata precedente come era finita Perché ero molto 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 divertito E dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo prendere la nostra mappozza Per andare a vedere questo gioco bellissimo, mi piace tantissimo Qui c'è il nostro scarcavallo Qui ci sono cose Noi dobbiamo localizzare e salvare Kajuma Mila Ok, molto bene, qui c'è Mila Molto bene Quindi noi diciamo che andiamo qui Perfetto, B dove è? B è laggiù da quella parte Ok, in stealth Cerchiamo di andarcene Questa è una K non ci interessa molto Non c'è qualcosa Oh merda, sta arrivando qualcuno Fermi tutti ragazzi, perché sta qua? Oh merda Merdissima Merdissima me lo sta facendo di nuovo Non ci devi provare Vattene Ti ho preso ciccio, ti ho preso Ok, sta addormentato No, va bene, va bene, va bene Con il checkpoint purtroppo mi ha tolto quei due tizi Quindi adesso Oh merda Me lo sono incollato Quindi dobbiamo fare tutto Di nuovo da cavo Ho rotto tutto quanto Ho rotto tutto quanto Addio Aiuto Ho alertato qualcuno Temo Vediamo un po' Sì, sì, sì Ho alertato qualcuno Sì Oddio Dovete avvicinare Sta sta Lenzo? Sta sta Lenzo, regà Sta sta Lenzo No No Liscio Dove cazzo stai? Non mi ha visto Non mi vede No No, 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 no Svieni, maledetto bastardo Gregà Mi sa che mi hanno Tanato Ok Mi hanno visto Mi hanno vistissimo Quanti sono? Fase di combattimento Interessante perché questa Non l'abbiamo mai vista Cioè, sì, l'abbiamo vista Sono morto prima Allora Stanno arrivando altri stronzi Vabbè A sto punto Ok Il bello dello stealth È tutto quarto Però Granata Come granata? Uh Buda, 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 buda Ok Posso anche non farmi la stealth No, posso farmi Buda Che è pronto soccorso? Non so che cosa sia Ma intanto mi sparano Giustamente Ok 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 D'accordo Pen 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 Questo Slow Non è accio Anche se Anche se Dai, io cerco di darmi Guardate che figata Proviamo a curarci A questo punto Ok Sembra andare meglio Tutti buttare Snake Ok Adesso Non sanno dove sono Ne ho uccisi tre Non volevo Però È anche bene capire Come funziona Quando ti sgamano Ma non è notte Perché c'è tutta sta luce? C'è la luna piena Ok È il momento di Chiamare Il cavallo Iappà Che figata Andiamo Andiamo Chico Quello è un masso Non puoi andare lì Chico Allora I sovietici Ci stanno cercando Però Sembrerebbe Oh merda Quella è la postazione Porca puttana Zuzza Butta No dall'altra parte Dall'altra parte Strike Ok Merda 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 Ma che figata Ok Dobbiamo prendere questo gioco Molto più seriamente Temo Ok Ok Uh avete sentito il rumore Che cos'è quello Avete sentito il rumore Praticamente non hanno più messo i cosi È un posto di guardia nemico Grazie Allora Diamo un'occhiata All'erba Eccoli là Come si zoomava Ah ecco Così si zoomava Sono di rondola Ma Non mi hanno visto Dai sto lontanissimo Cazzo mi hanno visto Sì mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto È incredibile Pensavo di star super lontano Invece Devi correre Cavallo Ok Adesso come funziona Loro non sanno dove sono Adesso io sto facendo il giro Loro stanno guardando laggiù Vediamo un po' Perché voglio capire bene Ok Stanno guardando dove avevano visto Giustamente Ma lì ce ne stanno altri Non so se è buona cosa Andare a infilarci là dentro Varco Scrum Però Però è divertente È divertentissimo Allora No cazzo Cosa fai? Risali su Via 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 Non uccidere il mio Al cavallo Taratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar presentation Iización Ti tizi Questi avamposti Che senso ha soltanto per prendere punti? D'accordo d'accordo Che cazzo hanno tirato Un flare Che figata Bello 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 mi piace Guarda questo gioco mi sta piacendo tantissimissimo Malgrado io sia una pipa Allora freniamo Lì c'è A Quindi io mi trovo Qui Ah quello era B Molto bene molto bene Qui che cosa c'è Non credo di avere stazione Non credo di avere missioni secondarie Missioni si Ok no No C'ho dei progetti che non so che cosa stia a significare Però vabbè ci sta Allora Zoom Non vedo niente Serve più legname sir Olè uno stava là Lì c'è un'antinevadia Beccato Un altro Che gironzola Preso Ok cerchiamo di targettarli tutti Perché L'altra volta poi me ne sono ritrovata Me ne sono ritrovata gente che gironzolava E che non sapevo Ah quello lì me lo prende come obiettivo Non sarebbe male Non sarebbe male Lì ce n'è uno Si Da questo lato direi che Abbashta Andiamo dall'altro lato Andiamo a Vedenzo Abbiamo raggiunto Guans Wings France Controlla la tua posizione Sull'Hydroid Lo speriamo anche noi Allora Un'altra zoomata Qui non c'è niente Qui non c'è niente Uuuuh Tana Dai regà Dai 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 Dobbiamo Dobbiamo Fare una versione di infiltrazione Perché dubito Che le forze In essere qui Ci permettano Di farci sgamare E poi darci E lui? Ok Vabbè io scendo da arcavarco E mi avvicino Fari 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 La potrei prendere dall'alto Oppure Eliminiamo quella minaccia là Ah intanto Ah Sta laggiù E 144 Non so che è Ah ce l'ho messo io 144 Probabilmente Miller Allora intanto Cambiamo arma Pronto? Come si fa? Cambiare oro Così Ok Ok Perfetto 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 Allora Lì c'è Troppa luce Direi Andiamo di qua Da questo qui Ricordiamoci Marcus Perfetto Ok Ta 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 Tra l'altro Dobbiamo fare Molto piano Con l'analogico Guardate che è difficile È difficile Davvero 42 Metri Ma se mi appiattisco Faccio rumore Mi vede? Sembrerebbe di no Ok Io ho molta paura Regà però è di un'atmosfera incredibile Cioè io non so se A voi fa lo stesso effetto Ma dopo aver giocato Per anni soltanto i sandbox Trovo un bel gioco Perché sia bello È indubbiamente Cioè il mio bello è un buono quantitativo Qualitativo Scusatemi Porca merda Merda di nuovo Porca zozza Allora come ci si attacca al muro No non voglio bussare Quello sta di spalle Oh cazzo ce n'è un altro Fermi ce n'è un altro laggiù Ma voi siete impazziti Non riesco a targettare Sì 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 forse riesco Eccolo qua Oh porca Cioè regà ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Che cos'è Y? Non ho ancora capito Quest'abilità Porca zozza Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù Oddio Sì Ok Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Vai 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 RT qual è? Ma Chi va visto? Porca merda Porca merdissima Tana 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 Cazzo 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 Viva Damose Damose Questi ci sparano Quei vulcan Ok Forse Forse Quello lato della montagna Non faceva per no Guarda lì Sono tutti allertati Vai 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 Cazzo Woohoo Non può scendere di qua? Sì può scendere Oh che stupendo Ok Proviamo a prenderli di qua C'era troppa luce Non penso che possano seguirmi Infatti stanno sparando laggiù Proviamo a sparare alle luci Giusto Dovremmo provare Se volete vedere un gameplay Di una persona brava Non guardate me Come esce se è più attiva? Ah così Però in un modo o nell'altro Li ho tirati dove Dove non volevo che fossero Dall'altra parte Certo Lì c'è Lì c'è un nemicino 20 sec Dove cazzo sta? Eccolo Mamma mia Mamma mia Mamma mia E bing Fai ciao ciao con la manina In testa No non l'ha preso in testa Non l'ha preso in testa Non sparare Dai che ce la fai Dai che ce la fai Ok no No come si cambia Arpa Così Che figo Va bene Non siamo più stealth Raga Miller Va bene ho capito Sta diventando un FPS Però Mi dispiace Va bene adesso so dove stanno Io ammazzo pure questo Lo so che sono una persona cattiva No non sono una persona cattiva Sono una persona morta probabilmente Oh mio Dio sto per farire la merda Devo fare un po' di allenamento Vai cavallo No 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 Mi dispiace amico Sei morto Vai via via col cavallo Via col cavallo E quello è un palo cavallo Ok Sto facendo invece che stealth Sto facendo atti di terrorismo Imboscate Vediamo un po' Raggiù c'è un nostro amico Che sta ancora dormendo forse Guarda come si muove Cioè raga sto gioco è Bellissimo È bellissimo Io sono una pippa Ma è bellissimo Io vi lascio prendere Dall'emozione Sono proprio un bambino E non mi ricordo i tasti Oh Come cacchio Come Ah così E poi così Ok scusate Braccio bionico Che figata Ma che è C'è una granata A frammentazione Ah faccio del coso Ok pistola Ho messa Sono ci sono riuscito Allora Intanto questo qui Al posto di guardia Potremo toglierlo Riesco a sparare A quel coso laggiù Ma non è silenziata Sta pistola Si è silenziata Ok Si stanno muovendo Ma raga scusate Ma vi dispiace Se la faccio Molto poco stealth Tipo Tipo così E' davvero E' davvero difficile Dove siete Venite fuori Amici Non è molto Utile Pensavo che fosse Più utile Posso sparare Al cavallo Aio Chi è stato No come granata Come granata Ma che era quello Il nostro cavallo E' morto Raga abbiamo Ucciso il cavallo Ah no Ok ok Che tristezza Se no Davvero Sarebbe stato Super tristissimo Allora ragazzi Questa puntata Di fail Termina qui Probabilmente Che questo personaggio Questa partita Morirà Morirò E la prossima puntata Cerchiamo di farci la stealth E di salvare il signor Miller Bella da voi Ciao